Noi abbiamo cominciato una discussione molto tempo fa sul Teatro Biondo, perché pensavamo che cambiare i vertici fosse importante, ma nulla di personale, perché tutto il rispetto per il maestro Carriglio, però pensiamo che un'istituzione culturale così importante abbia bisogno di un rinnovamento, di un cambiamento. Pensavamo che il teatro si dovesse aprire alla città, pensavamo che i grandi artisti di Palermo potessero tornare a fare parte del Teatro Biondo e poi soprattutto avere l'attenzione a un cartellone diverso, probabilmente, il mondo è cambiato, la cultura è cambiata, attenzione anche alla discussione con tutto ciò che riguarda il turismo a Palermo, l'attenzione ai turisti che vengono in città, l'attenzione al fatto che d'estate si possono fare spettacoli aperti negli altri palazzi di Palermo. Insomma, una stagione più viva, pensavamo noi, una stagione più al passo con i tempi. Ci fa piacere, per esempio, sentire il ritorno di Emma Dante a Palermo, finalmente, questa artista in tutto il mondo è riconosciuta e non aveva residenza qua a Palermo. Ci fa piacere leggere nel cartellone che c'è uno spettacolo del grande artista Mimmo Cuticchio, per esempio. Queste sono cose molto importanti, secondo noi. E poi tutta una discussione, all'attenzione sulla certezza delle risorse per un'attività culturale così importante per la città. Il rilancio del teatro significa anche il rilancio delle maestranze del teatro? Assolutamente sì. Il rilancio del teatro passa soprattutto per il rilancio delle maestranze. Maestranze preziose per questo teatro. Personale che è specializzato, ottamente specializzato, che in questi anni ha fatto moltissimi sacrifici pur di non vedere chiudere questo meraviglioso teatro. Noi crediamo che vada riorganizzato, vada fatto un ragionamento diverso. Bisogna porre attenzione alla formazione, è una cosa importantissima. Questo teatro deve cominciare ad essere competitivo, competitivo rispetto alle stagioni dei teatri di tutto il mondo. Dobbiamo cominciare a pensare che la programmazione deve essere per i prossimi tre anni, non da un anno all'altro. E dobbiamo avere presente che il teatro deve essere aperto alla città. È un'attenzione particolare ai laboratori. I laboratori straordinari, ci sono artisti che si devono formare qua a Palermo e che finalmente possono formarsi in città e non andare fuori e migrare. Io ho definito il nuovo direttore a cui faccio i miei migliori in bocca al lupo. Roberto Alaimo, un uomo laico alla guida del teatro Biondo. Roberto è una persona di chiara fama, uno scrittore affermato, un giornalista, brillante giornalista, un uomo con un'attenzione alla cultura veramente straordinaria. E credo che sarà lì e lavorerà tantissimo.